premio amici della zip 2011 per l'innovazione di processo distillerie bonollo umberto spa via galileo galilei 6 mestrino presentata da confindustria padova in azienda il metodo della distillazione industriale a vapore è stato introdotto dal suo fondatore già nel 1908 attualmente esso viene applicato nello stabilimento di conselve mentre a mestrino si cura l'imbottigliamento il packaging e la commercializzazione va sottolineato che di recente il parlamento europeo ha ormai stabilito che la grappa è un acquavite di minacce ricavate da uve prodotte e fermentate esclusivamente in italia e lavorate in stabilimenti siti sul suolo italiano il top dei prodotti bonollo è stato raggiunto nel 1999 con l'emissione nei mercati internazionali della grappa off amarone barrique sino ad allora l'invecchiamento in botti di rovere non era mai stato sperimentato con questo tipo di distillato è da allora che bonollo non commercia più la grappa in semplici contenitori cilindrici ma in bottiglie sempre più originali e dalla forma cattivante off è un marchio registrato che garantisce una raffinata distillazione di vinacce e vini pregiati a lunga conservazione con una cinquantina di addetti l'azienda realizza un export del 30 per cento e un fatturato annuo di 23 milioni di euro inizia 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 Now we step into the dark